La stangata sui mutui preoccupa famiglie e imprese che già soffrono il caro vita. Secondo i dati raccolti dall'osservatorio Mutui Online da gennaio 2022 a oggi, quelli variabili sono cresciuti del 72% e la corsa potrebbe non arrestarsi. La cura della BCE per frenare l'inflazione non è infatti ancora finita. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi aumenti del costo del denaro. Pochi giorni fa la sticella si è alzata nuovamente di 25 punti base. Il settimo rialzo deciso dalla BCE da luglio 2022. A maggio il tasso medio delle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni è stato 4,24%, un livello più che doppio rispetto a quello registrato a maggio dello scorso anno, quando si attestava a 2,05%. Oggi chi può e riesce a strappare alla sua banca un mutuo si orienta sul tasso fisso stabile al 3,70%, ma comunque molto oneroso rispetto a qualche anno fa, quando i più fortunati riuscivano ad avere dagli istituti di credito anche un conveniente 1%. Il mercato immobiliare per ora tiene, ma le compravendite pagano lo scotto per le crescenti difficoltà di accesso al credito. Intanto i banchieri centrali si vedono a Sintra, in Portogallo, per il consueto forum organizzato dalla BCE e cercano di fare quadrato. L'incontro Clou del Vertice sarà mercoledì, quando Christine Lagarde ospiterà i governatori delle banche centrali di Eurozona, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone.